C'è stato il matrimonio di Alessandra Mastronardi, la bellissima e sempre verde Alessandra, finalmente si è sposata e la bella Maria Sofia Ricci si è dichiarata come felice e soddisfatta da Giulia Vallegrè e Briosa e addirittura avrebbe urlato, adesso diverto nonna. Elena Sofia Ricci si trova al settimo cielo dopo proprio il fatto che Alessandra Mastronardi, l'amata figlia, si è sposata, si è sposata precisamente diversi giorni fa di tempo, era l'8 luglio 2023 a Capri, ci troviamo in regione Campania, l'attrice ha pubblicato poi nel profilo Instagram diverse foto del relativo matrimonio, sono foto belle, sono foto idilliche che esprimono la massima felicità, la massima soddisfazione da parte proprio di Alessandra per il fatto che si è sposata di recente. Elena dunque è felice, è contenta, è raggiunta e giuliva, si trova in una felicità totale e completa e adesso ha fatto sapere di essere pronta addirittura per diventare eventualmente nonna. Si è ben chiaro che questo video di oggi non vuole leggere la frase di Alessandra Mastronardi e di Elena Sofia Ricci ma solo informare eventuali persone del fatto che questo personaggio pubblico perché la Mastronardi è un personaggio pubblico di recente si è sposata nel luglio 2023 l'8 luglio se non va del lato a Capri. Iscrivetevi se vi va, commentate, commentate al bellissimo e sempre vedete di Mastronardi di Alessandra e al suo nuovo marito. Ciao!